Quando la forza della cultura e l'intenzione di tenerla sempre viva vincono sulla crisi e sui tagli, l'apertura del sipario ha un valore più grande. Ed ecco che sul palcoscenico del Teatro Politeama Greco di Lecce arriva il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. E' la prima opera in programma della 46esima stagione lirica della provincia di Lecce in scena venerdì alle 20.45. Dopo grandi difficoltà e in un periodo sicuramente non facile per il territorio e più specificatamente per la provincia di Lecce, la provincia garantisce anche quest'anno la stagione lirica. Questo è per noi un grande risultato, non solo dal punto di vista culturale, già di per sé questo sarebbe molto importante. La stagione è la fotografia della storia di questo territorio e quindi merita di essere rinnovata ogni anno. E' un barbiere pieno di vitalità, un barbiere che è il segno anche l'emblema della nostra stagione, che parte su un treno che va già velocissimo, pieno di vita, pieno di vitalità, che guarda il futuro. E nulla più di quest'opera incarna questo spirito, che poi anche il nostro spirito, è uno spirito dell'italianità che va nel mondo con la nostra lingua, con la nostra musica. Grazie.